allora io stasera allora innanzitutto vorrei dirvi che ora sono è mezzanotte 35 e io sono qua come una stronza a fare un video per voi è quindi poi non dite che io non vi amo perché io vi amo tutti però vi amo nella globalità non vi amo ancora siamo in cantina io e Giorgetto ci facendo quelle scantinate che voi non avete un'idea e però oggi non ho i tacchi perché perché c'è il momento per il tacco il momento per la scarpa queste punte qua sono state usate anche per i clienti del travestito ti ricordi chi erano sì quando hai detto oggi ho messo le punte quelle quelle sì no me ne ho un po' io sono un amante degli stivali però io ultimamente vorrei capire chi ha ordinato a tutte le donne di tutte le nazionalità di tutte le altezze di tutti i posti del mondo a portare i tacchi alti 18 20 24 ore al giorno io vedo poi vedessi qualcuna camminare bene sai avessero tutte la falcate della mori ci direi caspita ragazze fate bene fate proprio svoltare la testa a tutti i maschietti che girano per strada ma siete disastrose siete una cosa penosa allora io vorrei capire perché per piacere voi dovete avere i tacchi con dei mali e i piedi da paura con dei delle scarpe con tutti i tacchi con i rinforzi dietro prima è venuta una ragazza che aveva hai visto quella ragazza che si è sfilata le scarpe aveva delle piaghe proprio delle robe peggio dalle piaghe d'egizio secondo terzo quarto strato del tallone consumato ma perché ragazze allora se un uomo non vi fila non vi fila cioè che voi vi alziate poi altra cosa se una donna è alto un metro e cinquanta e si mette anche 18 centimetri di tacco diventa sì un e 68 ma è uno scherzo della natura perché voi non considerate una cosa una donna alto un metro e cinquanta le gambettine proporzionate al metro cinquanta se a queste gambettine voi aggiungete 18 centimetri di tacco diventate deformi diventate dei mostri è più lungo perché si vede questo tacco poi subito sopra il tacco c'è il ginocchio perché il polpacino sembra quello di un canarino no ciro il mio canarino l'inseparabile aveva dei polpacini piccoli come i vostri allora se una donna è alta può stare bene col tacco senza tacco sta bene in tutti i modi se una donna è piccola è bellissima l'is taylor era alta quanto un metro e quarantotto credo un e cinquanta eppure è stata una delle donne più belle del mondo marylyn era bassa era un metro e sessanta qualcosa del genere ma perché vi ostinate a portare sti tacchi perché me lo volete dire perché allora io vorrei capire se vi pagassero voi questo sacrificio non lo fareste sono sicura invece voi pagate per rovinarvi per distruggervi per spaccarvi le gambe in quattro per arrivare poi a 50 anni che se tutto va bene girate con le stampelle il marito non l'avete trovato lo stesso perché non è che uno vi tromba meglio se avete i tacchi e ricordatevelo sempre per piacere vogliono emulare film porno che scopano sempre con i tacchi ma sai li sono sdraiate se hanno sempre le scarpe e poi hanno sempre questa faccina rivolta alla telecamera proprio di una che è molto partecipe a quello che sta succedendo no è proprio una che sta godendosi tu che hai conosciuto schicchi faccia all'anima sua vi racconterò anche quello bravo giorgio mi hai fatto venire in mente una cosa è vero lui sei un esperto di tacchi di sguardi allora tutti ancora adesso mi chiedono ma tu non dovevi fare un film porno quella è stata una delle cassate lo facciamo noi adesso tornando al divertimento a fare le cose del divertimento che vi dicevo la scorsa volta quello è stato un voler prendere in giro i giornalisti però ve lo racconto nel prossimo video perché adesso troppe cose in una volta io poi vorrei cominciare a vedere anche qualche soldo è giorgio si pensa se mettessimo un gettone allora cominciate andare su vannamarchi.it anche lì potete vedere tutti i video che sono già quanti una cinquantina si quasi pensa abbiamo già fatto quasi una cinquantina di video tutti gratis tutti per voi pensa che cattiveria che abbiamo capito che ci sono certe allora dovete sapere che l'altra sera vi racconto questa detto internos è venuta una gallina per cantare in un posto non vi dico dove e no per cantare è andata in questo posto per mangiare quando è stata lì ha voluto cantare ha fatto fuggire tutti quelli che c'erano ha distrutto la serata tutti il giorno dopo voleva i soldi capito com'è il discorso adesso funziona così invece io e gnoccola e giorgio grande giorgetto lavoriamo gratis però lavoriamo guarda è quasi luna di notte facciamo pure gli straordinari facciamo gli straordinari in cantina non abbiamo bevuto praticamente niente abbiamo bevuto mangiato un sorbetto ma analcolico perché se c'è una cosa che mi fa andare fuori di testa ma è la vodka non parliamo di giorgio perché giorgetto quando comincia a bere che non beve mai ma se beve diventa erotico un po porno allora non va bene però per il discorso schicchi magari una vodka ce la facciamo dai alla prossima